La vita è un incastro di circostanze e potreste finirci dentro, però impigliate vostro malgrado nell'esistenza di qualcun altro. Ognuna di noi convive con qualcosa di strano, che a volte resta in silenzio per mesi, ma altre si scatena violento e separa come un forte temporale il senso della realtà dalla tua persona. Ed è proprio lì che servono gli amici, come una massa di volontari che dopo gli uragani passa a raccogliere i pezzi, a riordinare le strade, a ricucere gli strappi. Gli amici sono di tutti e questi sono anche i vostri. Buongiorno! Buongiorno Laura, come stai? Ciao Andrea, bene, grazie. Tutto posso? Non sei male. Cosa posso servirti? Il solito rosè, però mi siedo e aspetto le mie amiche. Comunitivo. Ok, grazie. Ciao! Eccoci, siamo arrivate, vieni! Ciao! Ciao, Neri! Ciao! Bella, come sono? Oh, tesoro, piano, ti distrucchi tutta! Giusto! E allora? Ragazze, tutto bene, ma ho visto un costume intero a righe che vorrei possedere. Ah, guarda, io invece l'unico che vorrei possedere è quel ragazzo là in fondo. È bellissimo, quello che sta leggendo il giornale. Fidati, il costume non mi servirebbe, Raffaele, quattro rosè, grazie. No, ma scusa, ma l'hai visto? C'avrà dieci anni meno di te. E allora, cosa vuol dire? Vuol dire che vuoi fare la cuga? Ah, parli tu, cara. Che compra le creme antiprufoli, lei, per sembrare più giovane, ma va là, dai. E Tamara dov'è? Ma guarda, dovrebbe arrivare. Buongiorno, belle bimbe. Ecco, Raffaele. Un uomo meraviglioso, grazie. Grazie. Prendiamo anche quella della Tamara, perfetta, che sta per arrivare. Arriverà. Grazie. Oh, ma ragazzi, avete visto? Da quando sta col poeta è tutta letteratura, è guai a parlarle di moda. Però dobbiamo essere oneste, è l'unica che riesce a venderti un cencio vecchio come se fosse il mood concettuale del momento, è bravissima. Ma certo, ragazze, vi ricordate quella volta alla showroom di Claudia? Ve la rifaccio. Signora, questo chemisier è futurista, d'ispirazione futurista. E la signora? Ma è tutto sintetico. E Tamara? Ma no, lo stilista volutamente non ha voluto usare il cotone perché il mood è il momento, è il rinnovamento, l'ispirazione. Bisogna cambiare gli orizzonti. Ma c'è neanche l'asola? Ma certo, perché la tendenza è chiudere, chiudere tutto, i punti di vista. E quanto costa tutto ciò? Ha detto la signora Tamara. Per lei, 1300 euro. Ma li vale tutti questi soldi? Ma certo, signora, perché un'opera dà... Ciao, 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 ciao ragazze. Ti sei persa Alessandra che ci stavo ammettando. Sì. Sei riportato? Oh, mai come l'originale. No. Ecco quel che mi perdo quando vado in Italia. Vieni, 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 vieni. Ha già fatto un self. Scema stupidina, ero andata a comprare un libro semplicemente. Titolo? Cherie, dico l'è. Cherie. Le Cherie è la mia crema anticellulite. Da... Uh, fammi vedere, fammi vedere. Le Cherie crema anticellulite promette miracoli. La applichi mattino e sera sui punti critici e le mie culotte de cheval se ne andranno per miracolo. Sì, se ne andranno come l'uomo di Laura. Sì, no, 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 aspettate, lui non se ne è andato solo, semplicemente preso un'altra pausa di riflessione. Una pausa di riflessione, sì, tra un bivrone e l'altro. Ma dai, allora, cioè, se fosse stato un uomo sarebbe stato tutto differente. No, 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 20 anni, 20 anni è differente. Va bene, mica sono una coguard. Ah, ma no, è vero, invece di una coguard saresti stato un puppy boy. Dai, cattivelle, l'amore non ha età. Brava! Sì, giusto, come la tua cellulite, cara. Spiritosa, vedrai tra qualche settimana che risultati. Eh sì, bene, allora, ragazze, all'eterna giovinezza questo brindisi e alle creme tue lo Cherie che le mantengono tali. C'è lì, brava! C'è lì! Ma è di cotone? Ma certo! No, è poliester! Vado in libreria e poi mi mi teppe! Sicuro! Sono in ritardo. Ah, eh, volevamo fare... Eh, scusate, sono in ritardo! No, 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 no. Grazie! Grazie!